Musica Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite Questa sarà una settimana davvero molto interessante perché per il 23 settembre è programmato almeno così si dice il nuovo aggiornamento la patch 14.20 ma nel video di oggi parleremo anche di alcune novità per quanto riguarda TikTok negli USA per quanto riguarda anche il Fortnite Mers e tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio una notizia che arriva nelle ultime ore di ieri domenica sembrerebbe che TikTok verrà salvato da due compagnie che hanno deciso di rilevare la parte americana o comunque le quote maggioritarie sembrerebbe io non ho informazioni dettagliate parliamo di Oracle e di Walmart Deal il che sarebbe una cosa fantastica per tutti gli utenti degli USA che utilizzano TikTok perché il problema che c'era era quello di Trump che sosteneva ci fossero dei dati sensibili che la Cina prendesse da parte degli utenti di tutto il mondo in questo caso gestendo loro direttamente TikTok non dovrebbero avere più il beneficio del dubbio e quindi sembra che si sia tutto sistemato quindi tanta roba sono contento per i ragazzi dell'America che possono continuare ad usufruirne e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un grandissimo problema su Fortnite che viene portato alla luce da un utente su Reddit che riceve anche una risposta direttamente dallo staff di Epic Games il problema lo vediamo in questa immagine in maniera direi notevolmente chiara succede che con un muro posizionato a volte ci si possa costruire sopra un altro muro il che è ovviamente no sense come vedete ragazzi questo giocatore ha editato il muro che c'era sotto ma c'è davanti un altro muro quindi l'edit anche se funzionasse non gli permetterebbe di attraversarlo e l'utente in questione si chiama Sleaky Leaky scrive un bellissimo poema dove spiega ovviamente quali sono le situazioni in cui ha riscontrato questo problema e sotto M House Epic che è proprio uno dello staff di Epic Games gli risponde apprezziamo che tu hai taggato questo problema e ci hai taggato nella conversazione sarà sicuramente una cosa che fixeremo nella prossima patch quindi un nuovo fix inserito all'ultima ora io personalmente non ho mai avuto questo problema se qualcuno di voi però l'ha avuto e me lo vuole spiegare lo scriva pure qua sotto nei commenti che domani sera gli do sicuramente che questa sera gli do sicuramente un'occhiata andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una bellissima carrellata di tutto quello che manca nello shop prima della patch 14.20 guardiamolo, guardiamolo assieme guardiamolo assieme guardiamolo assieme Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.